Dopo il distacco di un grosso masso a fine giugno, la chiusura della strada, a che punto siamo adesso con la Cunella? Mi sono appunto appena recato in comune per firmare l'ordinanza di riapertura. Come ho anticipato nei giorni scorsi, dopo i primi interventi e un approfondimento fatto dal geologo con la compilazione della relazione geologica, abbiamo ottenuto le condizioni per riaprire la strada, che viene riaperta alle medesime condizioni in cui era aperta da prima, quindi che sono quelle condizioni che comunque consigliano cautela e l'utilizzo non troppo spensierato. Nel senso che comunque sarebbero previsti una serie di interventi lungo tutto il fronte che va dal canale di aduzione dell'Enel all'inizio della Cunella fino al confine con Villa Donia, una serie di interventi a protezione dell'abitato a monte, della strada proprio a monte sul versante orografico sinistro della valle. Una prima quantificazione ci porta a dire che con 30.000 euro potremmo fare un buon lavoro, però questi soldi al momento non li abbiamo, rimandiamo la possibilità di trovarli a settembre, nel contempo riapriamo le medesime condizioni precadute dal massimo da 60 metri cubi e speriamo che questo tempo un po' così pazzerello ci consenta di mantenere un sufficiente livello di sicurezza. La situazione a Cunella la conosciamo tutti, per cui la strada viene riaperta, ma chiedo un utilizzo con parsimonio, un utilizzo oculato, un utilizzo solamente e strettamente necessario. I soldi come intendete trovarli? Credo che attraverso l'UTR di Bergamo ci siano poche possibilità, lo stiamo ancora sondando e stiamo ancora cercando di capire. Se a settembre non avremo fatto passi avanti, valuteremo di impegnare risorse nostre che chiaramente strapperemo ad altri interventi.